Ciao a tutti, ecco Umberto e Cristina sul Motosgubi che salutano da Lipari Ciao! Ciao! Più avanti ci sono anche gli altri Adesso ci avviciniamo così, li salutiamo Passa Cristina la videocamera, ciao! Allora, questo qui che vi è davanti ci sono tutti Lo uccidiamo, questo rama c'è Poi, qui vediamo Luca e Pamela Sì, ci troviamo qui, grazie Andiamo avanti Stiamo andando a girare lì Ci siete? E tu, amore, invece? Io sto guidando Io sto guidando perché non sape sentire Possiamo farvi vedere uno scorcio di questa isoletta Però sto guidando quindi non so cosa sia Passiamo linea per tardi Passiamo linea per tardi A dopo, ciao! Ciao!